Lo ZODI 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario Miglior amico! Occhio! Miglior amico? Miglior amico? No! Miglior amico! Miglior amico? Miglior amico! Ma cosa fa? Che cazzo? Conto! Deve cazzo sei? Mantoli sei il motoscappo dai! Stop in the way! Stop! Dai! Mantoli è il scopo! Per tuoi! Tu sei mistera! Bravo! Continuati dai! Spala! Spala! Quinta spazio! Ciuccia! Ma è al mare col motoscappo! Che figlio di put... Io lo odio! Questo non si fa eh! Eh no! Quindi organizzerei diciamo un nuovo evento! Le truppe! Largo Donegani viaturati! Accerchiato da taxisti che vogliono ammazzare Herbert ma anche Gigi il milionario! Pezzo di merda bastardo alla faccia della povertà! Sei un Silvio! Bravo! Ed è anche bravo Mazzoli che non dà il tuo numero! 335-81-0 Stardo!